ciao a tutti oggi parliamo del motore che ci consente di correre ecco qua il nostro corpo umano allora cosa bruciamo per correre allora carboidrati il carburante principale fatto praticamente glucosio e grassi il nostro secondo carburante il primo è per alte prestazioni mentre il secondo è per basse prestazioni parliamo del carboidrato allora il carboidrato si lega a una molecola con l'altra a formare il glicogeno il glicogeno è contenuto nei nostri muscoli e nel nostro fegato allora quanto ce n'è ce n'è circa 500 grammi in totale 400 nei muscoli e 100 nel fegato per un totale di circa 2000 chilocalorie 2000 chilocalorie ci consentono di correre più o meno 30 chilometri su asfalto ricordiamoci che massa grassa per consumare grasso c'è bisogno del carboidrato comunque elemento essenziale e se vi ricordate il carboidrato è un elemento limitato a circa 500 grammi quindi 30 chilometri allora il grasso viene consumato quando stiamo in un ritmo lento quindi quando corriamo molto velocemente il grasso cessa di essere bruciato perché serve il carboidrato per cui cosa dobbiamo fare per allenare il nostro corpo a bruciare grassi dobbiamo fare dei delle corse lente lunghe così da abituare il corpo a bruciare questi grassi ok quindi il grasso è un diciamo un elemento abbastanza abbondante sul nostro corpo e ci consente di correre centinaia di chilometri di cosa succede una volta finiti i carboidrati i grassi non possono più bruciare perché abbiamo detto che c'è bisogno del carboidrato come carburante sottostante per far bruciare i grassi entrano in gioco le proteine le proteine presenti nei muscoli vengono praticamente consumati quindi vengono consumati i muscoli per produrre di nuovo carboidrati e questo è un processo molto impegnativo e ovviamente quando entra in gioco questo ultimo meccanismo il corpo è veramente in sofferenza